Buonasera a tutti, che dire, non ci sono parole per descrivere chi è Yannick Sinner. Yannick Sinner ha appena vinto le ATP Finals Nitto di Torino, ha battuto 6-4, 6-4 Fritz, Fritz ha giocato una partita straordinaria, ci ha voluto il Sinner non perfetto ma con i migliori colpi possibili per chiudere, ha fatto la bellezza di 13 ace, ha fatto diversi punti entrando nel campo perché all'inizio stava lungo, soffriva molto la battuta di Fritz, poi è entrato nel campo e ha iniziato a fare dei punti incredibili, ha fatto una palla corta incredibile, il break sul 3-3 nel primo set è stato decisivo per la vittoria del primo set e il break sul 2-2. Nel secondo set sono stati decisivi contro un Fritz che ha giocato una partita straordinaria, con potenza, con forza, ha fatto diversi errori come li ha fatti anche Sinner stasera, non perfettissimo però ha tirato fuori dei colpi incredibili, lavorandolo dal fondo Fritz, incrocio lungo linea, diritto deciso, ripeto 13 ace di cui 10 solo nel primo set, quando c'è stato da soffrire ha saputo soffrire, palle corte, schiaffi sulla seconda palla. Non ci sono parole per descrivere questo giocatore che nello stesso anno ha vinto l'Australian Open, gli US Open e l'ITP Final, tre finali sul cemento solo Djokovic e Federer erano riusciti a raggiungere questa impresa, è orgoglio del tennis italiano, è un onore per noi italiani avere un atleta del genere, è veramente un atleta completo, è un atleta che sta dando delle gioie immense e ha confermato di essere il numero uno al mondo, ripeto contro un Taylor Fritz che ha tirato fuori una partita pazzesca, però devo dire che Jannik oggi nonostante ha sbagliato alcune palle dove è andato un po' in difficoltà in alcuni game, quando c'è stato da tirare fuori il meglio di sé l'ha fatto e questo lo può fare solo uno che è il numero uno al mondo, numero uno anche nell'umiltà, nella semplicità, un atleta che è un orgoglio nazionale e sinceramente stasera ci ha resi ancora più orgogliosi di quanto lo eravamo già nel vederlo vincere un ATP Finals, cosa che non avremmo mai creduto fino a 10-11 anni fa. vi ringrazio sempre per seguirmi, vi invito a cliccare in basso a destra, l'iscrizione è gratuita e potrete dire liberamente la vostra sullo sport. Ciao!